Come il tabacco schiacciato dentro una cartina, rollato, che poi ha un sentimento di molti di noi, credo, di noi ultra cinquantenni. Sentirsi inadeguati, non protagonisti della propria vita. Rollato di Econ Paolo Giovannucci al Teatro Verdi di Monte San Savino. È stato il progetto artistico dell'attore romano, noto per i tanti ruoli impersonati tra cinema e televisione, ad accendere riflettori sulla nuova stagione teatrale. Giovannucci nello spettacolo ripercorre la sua vita, un percorso a tappe suddiviso per capitoli, un flusso di coscienza pop e rima condito da un pizzico di ironia ed accompagnato da musica elettronica suonata dal vivo. È uno spettacolo dove, non dico si ride, ma è anche ironico, insomma, di cui si lamenta questo personaggio, insomma, che manca, appunto, ci sentiamo più soli, ecco, rispetto a qualche tempo fa. E la pandemia, il lockdown, il periodo in cui è nato questo testo, più per disperazione quindi che per necessità, racchiudeva un po' tutto questo senso di solitudine che poi appartiene un po' a noi. E di isolamento e di voglia, anche voglia di stare da soli, che è un po' diverso, però che rende poi la comunità molto difficile da creare. Noi è Dio, io che nascosto dietro noi mi sento più protetto, io meno solo, noi come con una donna.